Siamo con Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, per la presentazione di questa nuova collezione Adrenaline XL di Panini, che dimostra sia la tradizione di Panini che resta incontrastata e che piace sempre, ma anche con un tocco di tecnologia. Ci spiega un pochino le caratteristiche? Dunque, si tratta di una collezione di trading card, quindi va a fiancare le tradizionali figurine con questo prodotto più tipico della tradizione anglosassone. Già da alcuni anni noi abbiamo lanciato anche in Italia la collezione Adrenaline, dedicata al calcio italiano. Quest'anno la collezione, come giustamente si diceva, si arricchisce, si arricchisce in termini di contenuti, quindi ad esempio avremo per la prima volta le card record dedicate ai giocatori che in assoluto, o lo scorso campionato, hanno realizzato le migliori performance, le card trofeo e le card allenatore, la card mister, che non esisteva prima, che serve a aumentare i valori di gioco. Ovviamente è una collezione ricchissima, sono 370 card con tanti subset speciali, anche questi tipici della tradizione anglosassone. La novità ulteriore di quest'anno è la possibilità di giocare anche online, quindi ogni card ha un codice alfanumerico univoco stampato sul retro e questo codice, attivato all'interno del sito della riga Serie A, permetterà di replicare il gioco che viene fatto fisicamente anche online. Ecco appunto, il fatto di poter giocare anche online arricchisce un po' le caratteristiche di questa collezione rispetto a quelle tradizionali e forse ci si avvicina un pochino di più ai giovani, anche se si tratta di una cosa che piace un po' a tutte le età. È esattamente questo, da un lato l'esperienza è un'esperienza comunque che rimane fisica a monte, perché la magia di aprire una bustina di figurine di trading card, trovare la card mancante e tenerla in mano, sono tutte sensazioni veramente fisiche, però nel caso specifico c'è una dinamica di gioco, il fatto di poter replicare anche online permette di amplificare questo piacere ed effettivamente per i giovani di tutta l'età può essere un modo ulteriore di apprezzare questa collezione. Ecco, per acquistare le figurine di questo tipo un po' la modalità è la stessa insomma? Assolutamente sì, si parla di una bustina con sei trading card che costa 1,50 euro in questo caso, è un prodotto premium rispetto alle figurine perché è un cartuccino un po' più rigido, ha dei materiali speciali, ma costruendo tutte le edicole e poi c'è uno starter set a 8,90 euro che contiene il raccoglitore, le regole di gioco e tutto ciò che serve per iniziare a giocare. Grazie mille. Grazie a voi.